Anticipazione Uomini e del giorno 11 febbraio 2023. Ecco tutte le anticipazioni sui prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da pochi minuti è stato rivelato quanto accaduto nella odierna registrazione di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Dari stiu deja ca vreau cu totul altceva, inchide ochii zi poti imagina ca lumea e a ta si in plus poti sa sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu sa sar. Acum ca nu, nu, nu mai am nimic de ascuns pot sa ma sus, tot mai sus, mai sus, mai sus, tot mai, tot mai sus.